Allora oggi, o meglio questa settimana, tra oggi e domani, affrontiamo questo altro argomento che da un lato si riallaccia, anche se subito non sembra, ma alla fine riusciremo a vedere in essi con il discorso sulla progettazione di sistemi informativi basati su tecnologie web, perché sono quelle che ci danno poi i vincoli entro i quali progettare l'interazione, ma dall'altro soprattutto completa il discorso che abbiamo fatto sui casi d'uso, di cui siamo arrivati a descrivere degli scenari di interazione tra l'utente e il sistema, finora basandoci sull'intuito, sul buon senso, sul fatto che a un certo punto all'utente venivano offerte certe possibilità di interazione, l'utente a questo punto farà questo. Il capitolo che apriamo oggi invece cerca di convincerci e insegnarci come invece questa interazione con l'utente non sia da trascurare, anzi sia da progettare insieme alle funzionalità del sistema. Noi ci siamo preoccupati finora di che cosa fa il sistema, abbastanza poco di che cosa fa l'utente, nel senso che abbiamo di fatto detto più volte che l'utente non lo possiamo obbligare a fare una cosa piuttosto che un'altra, quindi è inutile stare a specificare cosa deve fare l'utente, ma invece ciò che deve fare il sistema è permettere all'utente di fare ciò che vuole e ciò che può. E qui ci poniamo il problema di come l'utente interagisce con il sistema, ci sono sistemi facili da usare, piacevoli da usare, sistemi che invece li bruceresti dopo tre minuti che li usi, tanto sono complicati, farraginosi, incomprensibili eccetera eccetera. Allora cerchiamo di affrontare questo tema dal punto di vista progettuale, perché appunto non è un caso se una cosa è facile da usare oppure no, è il risultato di un processo di progettazione e quindi andremo poi ad arricchire i nostri casi d'uso con un dettaglio maggiore sulle modalità di interazione dell'utente. E' ciò che diciamo così si dice progettare con, svolgere una progettazione centrata sull'utente e capire quali sono i criteri, adesso noi non andremo a fare, io no di sicuro perché mi banca la dose sufficiente di senso estetico, ma probabilmente neppure molti di voi andremo a fare l'interaction designer, cioè progettista dell'interfaccia o dell'interazione utente. Ma è un tema che invece diventa sempre più importante e quindi è più importante sempre ricomprenderlo nella progettazione, nel gant di progetto, a un certo punto non è che salta fuori, ah vabbè, poi ci vorrà un bottone da mettere da qualche parte in cui l'utente possa cliccare, perché se lo metti alla fine sei sicuro di fare un disastro e quindi in termini proprio di ciclo di sviluppo bisognerà tener conto fin dall'inizio di quello che è la facilità e l'efficacia dell'interazione con l'utente. Questo argomento, diciamo così noi lo svolgiamo dal punto di vista dei contenuti del corso, viene poi completato, ve l'ho già annunciato, lo riannuncerò ancora qualche volta, col seminario a corsi riunificati di giovedì prossimo, giovedì 4 dicembre, dove verranno dei professionisti di Telecom Italia che fanno questo lavoro di mestiere, raccontarci un po' come lavorano e farci anche qualche esempio pratico dei loro risultati. Noi qui cerchiamo di fondare un po' le basi, legandole possibilmente agli altri argomenti del corso e soprattutto ci daremo poi uno strumento che è quello dei mock-up con cui faremo le attività di laboratorio e che poi sarà, diciamo così, una delle domande possibili all'esame. Di cosa stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di quella freccia che collega l'utente al sistema, pensando ai casi d'uso. Abbiamo un utente che gioca un ruolo di attore, dicevamo, e poi dall'altra parte il sistema che offre certe modalità di interazione, certi casi d'uso. Adesso noi ci eravamo concentrati soprattutto sul sistema, su che cosa deve fare il sistema. Adesso concentriamoci sulla freccia. Su quella freccia viaggiano le informazioni che l'utente e il sistema si scambiano. Beh, ovviamente se l'utente e il sistema, lo vedete da sopra, scambiano anche informazioni con il mondo esterno. Cioè, mentre io uso un computer, se sento che suona il campanello, lo sto sentendo, anche se non c'entra nulla con l'interazione diretta. Queste possono essere in qualche modo distrazioni, no? o interferenze, in un processo di comunicazione in cui l'utente e il sistema dialogano. Dialogano attraverso una componente del sistema, che è l'interfaccia utente. Dal punto di vista del sistema informativo, l'interfaccia utente è un fastidio. La gestione dei dati, lui la può fare comunque. Tutta la parte, diciamo così, difficile, no? Di svolgimento di un processo. Il sistema informativo la fa, la può fare. Quello che dicevamo, dico spesso che il 90% di un computer non serve al computer. Cioè, se il computer avesse il processore e la RAM, e un po' di disco, sarebbe grosso così e farebbe tutto ciò che deve fare. Ciò che dà il peso, la dimensione, il costo, il consumo elettrico, la tastiera, le porte USB, lo schermo, eccetera, sono tutti dispositivi che al computer non servono, ma servono a me, all'utente, per poter sfruttare le capacità del computer. Quindi nel sistema informativo c'è sempre una fetta che è progettata, sviluppata esplicitamente per permettere agli utenti di interagire. Fetta costituita da oggetti hardware, schermi, mouse, tastiere, tablet, e da software. Cioè, su questi schermi qualcuno ci mette delle cose, delle icone, delle grafiche, dei colori, dei testi, eccetera. Questo è l'efficacia del dialogo tra l'uomo e il sistema, buona parte è determinata dall'efficacia dell'interfaccia utente, che facilita il trasferimento di informazioni. E' il trasferimento di informazioni che si deve in qualche modo basare su alcuni strumenti, su alcune convenzioni. Sul fatto che quando vedo una cosa fatta come un bottone, capisco che è un bottone. E quando vedo una cosa fatta come un campo di testo, capisco che è un campo di testo. E se qualcuno domani, per essere innovativo, mi fa un bottone a forma di campo di testo, non ci capisco più niente. E cosa viaggia su questa freccia? In realtà questa freccia è bidirezionale. Quindi da un lato ci sono informazioni che l'utente deve fornire al sistema, dall'altro informazioni che il sistema fornisce all'utente. Allora, entrambe queste direzioni sono suscettibili di essere migliorate o peggiorate a seconda di come faccio l'interfaccia. Allora, le informazioni del sistema all'utente devono essere facilmente comprensibili, di immediata comprensione. Così come l'input che l'utente fornisce al sistema devono essere il più possibile facilitati. Dovrei fare in modo che l'utente riesca ad interagire col sistema quasi senza percepire dentro di sé che di mezzo c'è un'interfaccia. Le interfacce che funzionano meglio sono quelle che non si notano, non danno fastidio, non le devi considerare. Quando voi telefonate al vostro amico o amica e qualcuno vi chiede cosa stai facendo, sto parlando col mio amico. In realtà non stai parlando col tuo amico, stai parlando col microfono che c'è dentro il telefono. Ma l'oggetto, l'interfaccia, la modalità d'uso sono talmente semplici, talmente naturali che non te ne accorgi. Te ne puoi accorgere quando cacchio non trovi il numero, quando non c'è segnale, eccetera. Ma poi una volta che hai cominciato a parlare stai parlando col tuo amico. Lo strumento, l'interfaccia scompare nella tua mente e ti concentri sull'azione che stai compiendo. Questo è lo scopo di tutte le interfacce. Togliersi di mezzo. Esserci per non essere percepite. Perché vuol dire che l'utente è più facilitato. Interfacce di ogni tipologia. Noi ne abbiamo alcune più presenti di altre. Ma in teoria si possono costruire interfacce utente che sfruttino tutti e cinque i sensi della persona. Sulla vista abbiamo gli schermi, ma abbiamo anche le stampanti che stampano qualcosa che può essere letto. Stanno uscendo adesso dei bellissimi occhiali o caschi per la realtà virtuale. Non vedo l'ora di provarne qualcuno. Sull'udito, i suoni, avvisi acustici. E per quanto riguarda l'aspetto sensoriale. Per quanto riguarda invece l'aspetto motore, cioè le informazioni che vanno dal sistema all'utente, tipicamente le forniamo con le mani. Usando tastiere, usando mouse, usando joystick, tavolette grafiche, schermi sensibili al tocco. Ma sta prendendo sempre più piede anche l'interazione vocale. Con successi più o meno alternati, ma via via si sta andando avanti. Alcuni dispositivi cominciano anche a interagire con lo sguardo. Partendo dalle cose semplici. Ci sono alcuni modelli telefoni che si accorgono se li stai guardando e quindi se non stai guardando per spremiare batteria spengono lo schermo. Cosa molto semplice, però è già un tipo di interazione che usa canali diversi rispetto alla classica mano, alla classica dita. Per quanto riguarda la postura, pensate a tutti i videogiochi che sono basati sulla Wii, sul Kinect, eccetera. Chiaro che stiamo facendo un lavoro, un discorso molto generale. Non legato al sistema informativo, quello noioso, barboso, da ufficio. Ma ci si arriverà anche lì, in certo senso. Allora, questo canale tra sistema e utente può esprimersi secondo modalità molto diverse e vorrei ragionare insieme a voi su cosa vuol dire avere un'interfaccia utente semplice o complessa. Perché in realtà ci sono tre tipi diversi di complessità che noi tendiamo a mescolare. E la confusione tra questi tipi di complessità sono quelli che poi alla fine causano o giustificano o creano degli alibi per il fatto che è certo che è difficile da usare perché è complicato. È un sistema molto complicato e quindi non potrei mica pretendere che sia semplice da usare. Allora, facciamo un po' di chiarezza. Parlando di complessità, io qui ho messo in questo grafico due dimensioni che sono, che ho chiamato, ho chiamato, sono dette, non le ho inventate io, sono dette complessità funzionale o complessità strutturale. La complessità funzionale, il nome ci lo dovrei suggerire, è tanto più alta quanto più alto il numero di funzioni che quel dispositivo deve realizzare. Rispetto al coltello semplice da raccoglitore di funghi, il coltellino svizzero ha una complessità funzionale maggiore perché fa più cose. Può fare più cose. Quindi il numero di funzioni che può svolgere un sistema. rispetto a un orlogio da muro che segna l'ora, quindi fa una funzione, lui, quella di segnare l'ora, e basta. Un telefono fa molte funzioni in più tra cui quella di segnare l'ora. Quindi è una complessità funzionale maggiore. Sull'altro asse invece ho messo la complessità strutturale, cioè di quante parti è fatto, di quanti pezzi è fatto, è costituito il sistema. Quante levette, quante icone, quanti bottoni, quanti, dipende poi da che cos'è il tipo di sistema. Quanto è articolata la sua costruzione, che può essere indipendente dalla complessità funzionale? Un orlogio ha una complessità strutturale abbastanza alta, provate ad aprirlo, a vedere tutti gli ingranaggini, è complesso. Direi che è più complesso dal punto di vista strutturale del coltellino svizzero, che tutto sommato avrà 7, 8, 10, non so, 15 utensili, se vogliamo esagerare, un numero molto minore rispetto agli ingranaggi dell'orlogio, ma svolge più funzioni. Quindi il numero di funzioni che svolgo e il numero di componenti di cui sono costruito, adesso negli oggetti fisici parliamo di ingranaggi, in interfacce parleremo di videate, icone, bottoni, etichette, eccetera, campi, sono ortogonali, possono essersi sistemi, se guardate l'interfaccia dello smartphone è sicuramente una complessità funzionale elevata, perché possono fare molte funzioni, e anche una complessità strutturale elevata, sia dal punto di vista diciamo così elettronico, cioè i componenti interni, sia dal punto di vista degli elementi di interfaccia, di quante funzioni, quanti menu, quanti icone ho, eccetera. però queste sono due dimensioni che hanno a che vedere appunto con ciò che può fare e su come è costruito. Ci manca una terza dimensione ancora di complessità. Quanto è difficile usarlo? Allora, l'errata percezione è che la complessità d'uso sia legata o alla complessità funzionale o alla complessità strutturale o alla somma delle due o a una combinazione delle due. Cioè più cose fa, più è complicato dentro, più sarà complicato da usare. Non so se avete mai visto le fotografie delle cabine di pilotaggio degli aerei con 12 milioni di interruttori, di interruttori, quella è una complessità strutturale enorme e sarà anche molto difficile da guidare. Penso, non lo so. In realtà non è detto che sia così. Noi possiamo avere un concetto di complessità diverso, che chiamiamo complessità d'uso, che in qualche modo cerca di rappresentare, misurare la difficoltà nell'utilizzare il dispositivo, l'interfaccia, il sistema. Che è indipendente dagli altri tipi di complessità. Io posso avere sistemi che funzionalmente sono molto complicati, complessi, ricchi di funzioni, ma facili da usare. L'esempio classico è l'iPhone, che ha avuto il suo successo proprio perché integrava moltissime funzioni in un modo molto facile da usare, molto più facile, intuitivo, rispetto agli analoghi tipi di telefoni che erano i concorrenti rispetto ai primi modelli di smartphone che sono usciti sul mercato. Non è che quando sono usciti gli smartphone esistevano solamente i telefoni stupidi in giro. C'era tutta una serie di modelli, non so se voi eravate piccoli, ma i vari Nokia serie N, serie E, eccetera, che erano un po' di ferro di aspiro, ma dentro avevano una serie di funzionalità, la mail ce l'avevano, il calendario ce l'avevano, tutte le funzioni di base c'erano già, la possibilità di scaricare applicazioni, ma in un modo molto più macchinoso. Quindi dal punto di vista della complessità funzionale erano analoghi, ma dal punto di vista della complessità d'uso erano due universi diversi, due mondi diversi. quindi il nostro obiettivo qual è? È riuscire a capire come fare a progettare sistemi che dal punto di vista funzionale siano anche complessi, cioè noi non vogliamo un sistema che fa una cosa sola e basta, sta fermo lì, il telefono, l'orologio è un muro. Vogliamo sistemi che abbiano una complessità funzionale elevata, ma mantenendo una complessità d'uso molto bassa, che siano facili da usare, pur offrendo tantissime funzioni. purtroppo tanti esempi che ci vengono in mente sono sistemi che hanno una complessità d'uso molto elevata, complicato da usare, a fronte di una complessità funzionale tutto sommato modesta. Ma sì, ma alla fine fai queste quattro cose, perché devono essere così difficili da fare? Quindi, prima cosa, quindi riconosciamo l'indipendenza di questi due assi, la complessità d'uso da quella funzionale. La complessità strutturale ci interessa di meno perché è interessante di più a chi farà poi la progettazione tecnica del sistema, deve vedere dentro il sistema per capire come è fatto. Noi ci fermiamo alla scatola nera, quindi a ciò che fa, per questo non riprendiamo più tanto. Ma i due aspetti funzionali della complessità d'uso sono i due piatti della bilancia. E non è detto, se vogliamo la scoperta che facciamo, che non siamo obbligati a costruire sistemi che sono difficili da usare solo per il fatto che hanno tante funzioni. E questa scoperta è quello che tra l'altro ha fatto scomparire del tutto i manuali. I manuali d'uso. Oramai moltissimi oggetti vengono venduti senza l'istruzione. uno può dire sì per risparmiare carta, sicuramente, ma anche perché non ce n'è più bisogno, perché l'oggetto è stato progettato in modo da non avere bisogno di istruzioni. Come? Lo scopriamo per gradi. Quindi, in qualche modo, il ruolo dell'interfaccia scopriamo che fa un po' da filtro tra la complessità intrinseca del sistema, quella funzionale, quella strutturale, cioè le cose che il sistema effettivamente deve riuscire a fare e la complessità che vogliamo o che riusciamo a far percepire all'utente. Tutta la ricerca sull'interfaccia serve per nascondere complessità e quindi la complessità che c'è, esiste a livello funzionale, non c'è più, è molto mitigata, nascosta, gestita a livello d'uso, a livello di interfaccia. Quindi, mi permette di accedere a tutte le funzionalità del sistema ma attraverso un amico che mi aiuta. Non mi sbatte in faccia tutte le 12.000 opzioni ma mi permette di trovarle, raggiungerle secondo alcuni criteri. Le cose che raccontiamo non sono cose nuove, sono il risultato di 30 anni di lavoro in cui via via si è scoperto, si è andati a limare, a trovare delle soluzioni, a trovare delle convenzioni che ci facilitassero l'uso dei sistemi per cui un esempio che potete provare a fare è aprite un sito web qualsiasi in cinese, un sito web che non conoscete, cinese, giapponese, arabo, scegliete una lingua che proprio non capite ma neanche riuscite a leggere le lettere. Vi accorgete che pur non capendo nulla capite subito dove è il menu, dove è la pubblicità, dove sono gli articoli, dove è il logo dell'azienda, dove devo cliccare per andare all'home page, dove devo e altre cose del genere. a colpo d'occhio perché di tanto di più non potete fare. Ma la stessa cosa voi prendete un bambino che non sappia ancora leggere ma un tablet lo sa usare. Perché? Perché c'è una serie di soluzioni che sono basate su convenzioni di interazione, convenzioni grafiche, segni, diciamo, pattern di interazione che si sono definite, stabilite. Non c'è una legge ma una convenzione d'uso per cui ci si aspetta che le cose facciano così, si comportino in quel modo e siano fatte in questo modo. È interesse di tutti che sia così. Perché così io mi posso rifare quando incontro un nuovo oggetto, un nuovo sistema alle convenzioni d'uso che ho imparato da quando ero piccolo su tutta una serie di oggetti anche diversi, oggetti o sistemi anche diversi. Quando voi aprite un libro, non stiamo inventando nulla, lo stiamo applicando al campo dei sistemi informativi, quando aprite un libro riconoscete subito quando è che comincia un capitolo nuovo. Beh, a volte c'è scritto capitolo ma anche se non ci fosse scritto il capitolo, sapete che inizia su una pagina destra con un titolo molto grande, un po' di spazio davanti e dietro e allora quello è un capitolo. Non credo che nessuno mai a scuola vi abbia detto oggi vi insegno cos'è un capitolo. Abbiamo cominciato a usare degli strumenti, i libri, e abbiamo capito come funzionavano al loro interno. Questo concetto si è rinforzato nella nostra mente per diventare trasparente. Non ce ne accorgiamo più, non ci dobbiamo dire ma chissà dov'è che è finito il capitolo. A colpo d'occhio. Questo, dicevo, non stiamo inventando nulla e il concetto di usabilità parte già dalla nascita della tipografia ma ancora prima dalla nascita della manifattura degli oggetti. Chi è che è il primo a cui è venuto in mente che nelle tazzine è meglio mettere il manico? Non lo so, non è una buona idea, ma nessuno ha mai venduto le tazzine con le istruzioni. Quella cosa lì serve per impugnarla, no? E lì, la vedi, non puoi fare altro, ti chiama, ti invita, dice, questo qua è il punto da cui prendermi. Ok? Ovviamente non è un caso, è stato progettato in modo che, quindi, no, sono tutti concetti, tra l'altro, sconfinano a metà tra la tecnologia e la psicologia, questi ragionamenti. Noi dovremmo costruire dei sistemi che siano come il manico della tazzina, la gente sa che cosa serve, sa come usarlo anche se non l'ha mai visto prima, anche se non glielo l'ho mai spiegato prima. E questo ovviamente man mano che evolve la tecnologia cambiano le convenzioni, per carità. Non metto il manico sull'iPhone. Ma i concetti si evolvono e si rievolvono. Per far questo dobbiamo sempre ricordarci che anche nelle più piccole interazioni dobbiamo sempre chiederci o rendere esplicito all'utente qual è lo scopo delle sue azioni. Quando l'utente tocca un bottone, clicca su un link, lo fa perché si aspetta che succeda una certa cosa. Non lo fa perché è schizofrenico e clicca dove gli capita. Quindi il sistema deve essere prevedibile. L'utente tocca quella cosa, usa quell'elemento, inserisce quel dato, schiaccia quel bottone col fine col fine di passare alla pagina successiva e inserire il dato e si aspetta che succeda questo. Quindi il sistema deve essere facile da capire in modo che l'utente possa poi far fare al sistema ciò che l'utente vuole. In realtà il sistema se potesse leggere il pensiero dell'utente sarebbe tutto molto più facile. Il problema è che così non è. E ci sono secondo un certo norma anche tornate in cui vi presento due golfi che separano la terraferma del sistema dalla terraferma dell'utente. Golfi da superare. da un lato c'è il golfo della valutazione partiamo da sotto in cui l'utente deve capire che cosa il sistema gli sta dicendo e che cosa il sistema gli sta offrendo. L'utente ha una certa percezione vede cosa c'è sullo schermo per banalizzare l'esempio e sulla base di ciò che lui vede si fa un'idea un modello mentale dello scopo a cui servono i diversi elementi che sono sullo schermo. Guardando quello lì è un link perché è blu sottolineato quello è un bottone perché è fatto stondato così grigio quello è un'immagine non ci devo cliccare sopra non serve non serve a nulla quello è un menu e quindi solamente osservando percependo interpreto ciò che osservo questa interpretazione può andare bene o andare male io potrò forse interpretare correttamente o non correttamente se l'utente interpreta male abbiamo dei problemi perché lui penserà che cliccando quello succeda una certa cosa invece ne succede una diversa quando fate benzina arriva il momento fatidico in cui c'è scritto selezionare l'erogatore allora tu hai un tastirino numerico sotto con dei numeri a volte hai anche dei bottoni numerati e poi hai anche dei bottoni a fianco dello schermo quale cavolo devi premere sono uguali l'uno l'altro non lo so me lo chiedo allora quando me lo chiedo già non va bene perché vuol dire che io ho difficoltà a interpretare l'informazione che il sistema mi sta presentando per come è fatto allora io mi faccio un'idea di che cosa devo fare e poi lo compio quindi svolgo un'azione e quindi devo riuscire a eseguire questa azione nel modo anche qua più semplice possibile in modo che l'azione arrivi al sistema magari facendo in modo che non debba proprio centrare con precisione micrometrica un link piccolino nell'angolo in alto a sinistra ma magari permettere all'utente di fare in modo che l'azione che deve compiere sia comoda rapida veloce esente da errori quindi facilitare l'eventuale scoperta correzione degli errori l'interfaccia utente deve riuscire a rendere questi golfi queste separazioni non invisibili impossibili non si possono far sparire ma le devo cercare di rendere più piccole o più semplici da superare se vogliamo i classici che parlano di questi temi quello che diciamo ha divulgato maggiormente è questo Donald Norman questo libro è uno spasso ne è uscita da poco l'edizione rivista e aggiornata il titolo italiano è anche esso uno spasso la caffettiera del masochista è una caffettiera in cui potete versare il caffè bollente ma ha il problema che ha il beccuccio sullo stesso lato del manico per cui nel momento in cui cerchi di versarlo inevitabilmente devi ustionarti e la tesi una delle tesi di partenza di tutto il libro è che se un oggetto è difficile da usare non è colpa mia che sono scemo ma è colpa dell'oggetto che ha progettato male qualunque cosa esso sia arrivi di fronte a una porta non sai se devi tirare o spingere poi magari si apre da sola così perché? ma perché non ho delle indicazioni sufficienti ad indicarmi come si usa quell'oggetto o se ci sono sono contraddittorie come un pomello un pomello lo tiri o lo giri mentre magari devi spingere lo sai dello spingere mettimi una placca non mettermi un pomello ci sono una serie di diciamo così indicazioni pratiche nella forma degli oggetti ma qui parliamo di oggetti fisici ma la stessa cosa vale per le interfacce che ci dicono come deve essere usata quell'interfaccia quell'elemento lo devo spostare col mouse devo fare un drag oppure un click se lo tocco si sposta si toglie oppure quest'altro signore che poi ha fondato insieme a Norman questo si chiama Nielsen ha fondato insieme a Norman una società di consulenza che si chiama Nielsen Norman hanno avuto tanta fantasia lo cito perché diciamo così un altro dei padri di questa disciplina per quanto riguarda l'applicazione all'informatica ai sistemi informativi se andate su questo sito ci sono spesso articoli suggerimenti risultati di studi eccetera molti a pagamento ma ci sono anche molte informazioni diciamo così più di sintesi che sono liberamente consultabili ogni anno fa ad esempio lo studio sull'usabilità delle intranet quindi i siti interni aziendali facendo vedere i dieci errori più frequenti invece dei dieci risultati positivi più frequenti e permette di imparare molto quest'altro riferimento a me piace molto perché il titolo di questo libro dice il 90% di ciò che ci serve lo scopo dell'usabilità è don't make me think non farmi pensare ogni volta che vedo un sistema e mi fermo ma forse anche per un decimo di secondo a chiedermi ma a cosa serve serve a qualcosa o serve a qualche cos'altro ho un disturbo che si mette tra me e il raggiungimento del mio scopo voglio fare una certa cosa ma prima di poter fare questa cosa devo rispondermi nella mia mente in modo anche quasi inconscio parzialmente inconsapevole a 12 domande inestupide questo cosa serve questo lo devo cliccare quest'altro mi interessa non mi interessa a che cosa allora l'usabilità permette all'utente di arrivare ad eseguire il suo scopo senza dover pensare senza dover ragionare anche a livello microscopico sugli elementi e quindi avere no diciamo così effettivamente questo effetto di scomparsa del livello di interfaccia sto telefonando con il mio amico non sto parlando dentro il microfono dentro la cornetta o dentro il telefono e questo si fa attraverso molti tipi di suggerimenti o di indicazioni questo esempio semplice ma che probabilmente molti hanno vissuto sulla propria pelle guardate i fornelli che sono rappresentati schematicamente a destra noi abbiamo quattro fornelli a gas o piastre elettriche quello che volete e quattro interruttori per accenderli allora quasi tutti i fornelli sono fatti così e poi dire ma qual è che accende qual devo girare per accendere questo qua in alto a destra e di solito la risposta è guarda le serigrafie ci sono delle iconcine piccole 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 che poi con l'uso si consumano che con un'iconografia che ogni marca usa è molto diverso ti dice guarda che questo qui è relativo a quello in alto a destra eccetera quando basterebbe molto poco guardate la figura di sinistra i due centrali sono spostati di mezzo centimetro più in su e in piccolo ripetono lo schema grafico della disposizione dei fornelli qui non puoi avere dubbi ma non devi neanche pensare quello dietro a destra è questo perché quello è quello davanti non servono le istruzioni i simbolini le serigrafie vicino quando tu puoi usare il layout la forma la posizione che vengono elaborate in modo automatico da parte del nostro cervello che non ne devono neppure coinvolgere il pensiero cosciente ma questo concetto si chiama affordance la affordance dice che la forma di un oggetto può essere fisico può essere questa potrebbe anche essere un'interfaccia utente la forma di un oggetto suggerisce come deve essere usato e a che cosa serve sono oggetti che non puoi usare in modo sbagliato io lì vedo uno sgabello bellissimo non posso usare in nessun altro modo che non per lo scopo per cui è stato pensato anche chi non ha mai visto uno sgabello lo sa usare le porte antipanico col maniglione rosso non puoi farci altro da un lato le devi per forza spingere dall'altro invece c'è una maniglia e una maniglia cosa puoi fare puoi impugnarla e girarla non puoi fare altro tutta una serie di piccole piccole accorgimenti quest'altro addirittura peggio della foto non si vede molto ma i pomelli sono messi qua sopra in alto così non solo non sai a quale corrisponde ma sei sicuro di bruciarti perché devi passare sopra i cuochi per andare a girare però ci sono questi prodotti quindi il primo concetto è fare sì che i vari controlli dicano da soli a che cosa servono e dal posto in cui sono messi facciano capire a che cosa si applicano a quali dati sono relativi a quale informazioni poi ci arriviamo ovviamente al concetto di interfaccia utente ma prima è più facile sui oggetti tangibili ragionare sui principi l'altro principio che noi tutti conosciamo è quello del feedback se ho un'azione la cui durata supera qualche decimo di secondo quindi quando supera i due trecento millisecondi due tre decimi di secondo viene percepita come un'azione che ha una certa durata le durate sotto i due decimi di secondo sono per noi percepite come istantanee notate che un decimo di secondo circa la persistenza delle immagini sulla retina quindi qualcosa di meno di un decimo di secondo non riusciamo a vederlo quando dura uno due decimi se il risultato c'è dopo due decimi è istantaneo soggettivamente di più mi accorgo che ho cliccato col bottone e non è ancora successo nulla mi aspetto una reazione immediata allora quando posso la reazione immediata te la do cioè il sistema risponde subito quando il sistema non può rispondere subito deve perlomeno farti capire che ha preso in carico la tua richiesta che lo sta facendo ha capito quindi d'altro un'indicazione di feedback del tipo guarda io dalla dalla tua richiesta di azione ti posso dare un feedback se questo feedback se la risposta arriva dopo troppo tempo io ti devo dare dei feedback intermedi o addirittura oggi si usa molto un feedback continuo meglio ancora se questo feedback mi dà una previsione sul tempo di completamento con le varie progress bar o cose di questo genere mi dicono mi dicono tante cose queste mi dicono guarda che ho capito ho già iniziato e devi ancora aspettare un minuto due minuti otto minuti o capisci a che velocità sta andando la cosa quindi decidi come comportarti sai quanto devi aspettare sai che il sistema sta lavorando per te e sei contento che lo faccia voi prendete un compito un'attesa di 10 secondi e poi fate due programmi uno che clicca un bottone l'altro dopo 10 secondi fa qualcosa e un altro programma che premi lo stesso bottone dopo 10 secondi fa la stessa cosa ma nel frattempo ti fa vedere una sbarra di quel genere provateli non dite agli utenti e ai vostri amici che durano 10 secondi e chiedeteli quanto tempo dura l'uno e quanto tempo dura l'altro chiaramente facendo provare ad alcuni l'uno e ad altri l'altro coerentemente dura lo stesso tempo ma quelli che non hanno un feedback vi diranno che dura di più 15-20 secondi quelli che hanno un feedback tenderanno a dirvi che dura di meno la percezione della durata del tempo se non sai se ha preso il comando se lo farà non lo farà ti crea ansia oppure ti induci in errore allora lo premo una seconda volta perché non sono sicuro che l'abbia sentito la prima sono cose che diamo per scontate che ci devono ma che noi diamo per scontate come utenti significa che noi come progettisti siamo obbligati a metterle a pensarci perché i nostri utenti li daranno per scontate allora questi sono solo alcuni esempi iniziali per dire che esistono delle intere discipline che studiano questi problemi in dettaglio in dettaglio che permette all'utente di arrivare prima al risultato facendo meno errori e mi interessa parecchio facendo meno errori vabbè queste sigle poi in qualche modo si accavalano anche una l'una con l'altra ma ecco questo è un altro esempio che avrei anche potuto mettere prima di complessità d'uso che in questo caso è proporzionale alla complessità strutturale alla complessità funzionale cioè questo sistema è progettato male perché avendo tante funzioni ha messo tanti bottoni e avendo tanti bottoni sono difficili da usare è difficile da capire quale feromino che deve leggere il manuale per poter capire quale quale bottone utilizzare questo è un telecomando ma se andiamo a prendere molti sistemi informativi tipo internet soprattutto interni spesso sono disegnati così apri la videata e ci sono 240 menu diversi bottoni funzioni che che devi scoprire uno a uno e studiarteli uno a uno non si presentano da soli ecco per arrivare a questo risultato vabbè sicuramente occorre avere nel team qualcuno che sia esperto in queste tematiche ma bisogna anche cambiare un pochino o estendere il flusso di progettazione ciò di cui abbiamo parlato fino ad oggi è una progettazione funzionale non è sbagliato è solo insufficiente ci chiediamo quali funzioni il sistema deve fornire all'utente cioè puntiamo a raggiungere la completezza funzionale fa tutto ciò che serve e siamo contenti quando il sistema fa tutto ciò che serve anche il portale della didattica fa tutto ciò che serve ma dite parole poco gentili tutte le volte che lo usate fa tutto ciò che serve che serve però quindi dal punto di vista funzionale è perfetto tra virgolette perché? ma perché la progettazione è partita dal sistema e dalle funzioni che doveva erogare è ciò che abbiamo fatto finora noi invece cerchiamo di fare un passo in più vabbè qui c'è l'esempio che poi lo prendo dopo scusate quindi lo commentiamo di un ascensore se io progetto un ascensore dal punto di vista funzionale cosa deve fare? deve portarmi al piano che voglio deve aprire e chiudere la porta deve fermarsi al piano giusto e in caso di problemi deve far suonare l'allarme il campanello d'allarme queste sono le cose che l'ascensore fa il soggetto sottinteso di queste frasi è l'ascensore fa il soggetto sottinteso nei requisiti funzionali spesso è il sistema fa poi noi già con i casi duri abbiamo fatto un passo avanti perché abbiamo detto che l'utente vuole fare era già un primo passo in questa direzione in quale direzione? quella di una progettazione orientata all'utente cioè mi chiedo cosa vuole fare l'utente col sistema non solo che cosa il sistema fa o può fare cioè cerco di contestualizzare le funzioni offerte dal sistema all'interno di obiettivi d'uso casi d'uso come li abbiamo chiamati espressi dall'utente e allora io mi chiedo di fronte all'ascensore che cosa può voler fare l'utente può chiamare l'ascensore può entrare può scegliere il piano può bloccare l'ascensore può chiedere aiuto può uscire sono le stesse cose circa ma dove il soggetto questa volta è l'utente non è il sistema e allora poi mi posso chiedere se l'utente se queste sono le cose che l'utente vuole fare i casi d'uso dell'utente qui ci agganciamo benissimo al lavoro che abbiamo fatto la settimana scorsa se i casi d'uso dell'utente sono questi come fa il sistema a fornirglieli nel modo migliore possibile nel modo che sia più simile possibile al modello mentale che ha l'utente dei propri casi d'uso dei propri obiettivi quindi questo è il lavoro che dovrà fare poi l'interfaccia utente quindi l'interazione col sistema la progettazione dell'interazione va progettata tenendo conto dei casi d'uso visti dal punto di vista dell'utente ci sono ovviamente noi non riusciamo entrarci tanto delle metodologie per capire cosa pensano gli utenti metodologie di lavoro focus group questionari eccetera ne citeremo alcuni poi nel seminario ci spiegeranno meglio cosa si fa nei casi pratici ma è proprio una fase di progettazione insisterai su questa parola che c'è qua design non è un esercizio di grafica lo facciamo bello lo facciamo colorato no lo progettiamo in modo che faciliti l'interazione e quindi in qualche modo l'interfaccia utente deve permettere l'utente ha in mente questi casi d'uso e deve riconoscerli facilmente nell'interfaccia utente che gli si presenta davanti quindi chiama l'ascensore c'è un bottone per chiamare l'interfaccia utente migliore per il muro di fronte all'ascensore è un bottone solo che è il bottone di chiamata e basta a volte si va oltre e per fornire feedback quindi una previsione sul tempo di risposta ti dico anche a che piano sta l'ascensore adesso che è facile se è un ascensore solo se cominciassi a averne già due o tre diventa complicato perché il numero del piano non lo posso più mettere vicino al bottone lo devo mettere sopra gli ascensori per far capire quale oppure replico il bottone più volte allora le persone poi non sanno se premere l'uno è equivalente a premere l'altro o cose del genere e questa è l'interfaccia interna quando sono dentro devo poter selezionare un piano e quindi ho i bottoni che mi permettono di selezionare il piano devo permettermi di chiedere aiuto mi permettono di bloccare fare un arresto di emergenza e poco altro quindi io progetto l'interfaccia dando una tangibilità una visibilità ai casi d'uso che l'utente vuole avere o si aspetta di avere quando interagisce con un oggetto di quel tipo che ha quelle funzionalità se poi andiamo a prendere degli esempi reali ma qui sono fotografie vere qualcuno ha detto ma prendiamo due bottoni di chiamata uno per salire uno per scendere l'odevole intenzione l'avete già visti le persone come usano quei tasti c'è di tutto si potrebbe fare uno studio antropologico sui tasti di chiamata degli ascensori cioè quello che arriva e per default li preme tutti e due perché così arriva prima dopodiché lui deve salire se lui preme anche il tasto per scendere si ferma l'ascensore apre le porte c'è uno che dice ma lei sale e non scendo certo l'hai chiamato per scendere e lui oppure quello che per vede c'è anche questo ragionamento vede che l'ascensore è al terzo lui è al secondo e quindi preme la freccia in giù per far scendere l'ascensore magari vuole salire però c'è gente che pensa così premono il bottone sbagliato al contrario allora nella loro semplicità sembra ovvio ma non lo è non per tutti perlomeno perché c'è chi ha il modello mentale più bottoni schiaccio prima arriva c'è chi ha il modello mentale premo giù se voglio far venire giù l'ascensore e quindi si fa a lui un problema che non dovrebbe essere suo mentre invece il modello di funzionamento è se vuoi salire premi la freccia in su se vuoi scendere premi la freccia in giù e è lodevole perché facendo così l'ascensore fa un numero di cose ridotto quindi è risparmio energetico e fa un numero di fermate minore e quindi è un tempo di viaggio minore io non so se sono solo quelli che incontro io ma e quindi vabbè è un miglioramento o no dell'interfaccia beh sicuramente è un aumento della complessità strutturale cioè due bottoni invece che uno però è un aumento che in questo caso aumenta anche la complessità d'uso è più facile sbagliare è anche un test l'intelligenza però è l'esperienza che avete avuto anche voi ecco non so se qualcuno di voi sia del partito di due bottoni e all'interno anche questo qua aveva sei piani otto scusate e quindi hanno dovuto aumentare il numero di bottoni corrispondenti ai vari piani dopodiché c'è un problema di affordance qui sono due problemi secondo me uno di affordance nel senso che i piani che io sappia negli edifici vengono costruiti uno sopra l'altro ok mentre i bottoni si capisce perché li mettono uno a fianco dell'altro in realtà un motivo c'è il motivo è che i bottoni per una normativa sull'accessibilità se qualcuno entra in carrozzella e quindi è seduto deve poter arrivare a premere il piano più alto e se io li mettessi tutti in verticale uno sull'altro il bottone più in alto sarebbe troppo in alto rispetto a un'altezza massima a cui si possono trovare i bottoni e quindi li compattano li compattano in modo illogico perché se li vuoi mantenere a un'altezza costante bene fanno quegli ascensori che li hanno tutti in fila in orizzontale che non è proprio come averli in verticale come l'edificio ma è un buon compromesso perché comunque l'edificio si svolge in una direzione lineare e tu hai i bottoni che sono presentati in una forma lineare e lo mappi facilmente è questo invece ci vuole un attimo per pensare a parte che poi c'è R e S che è R a volte R a volte T dipende poi dalla lingua lo zero e poi ci sono questi due maledetti qua sotto allora nessuno li becca al volo ci vuole sempre un attimo di pensiero perché voglio che le porte si chiudano sono chiari questi simboli non è che non hanno nulla di sbagliato nel senso che questo qua dice poi le porte si aprono le faccio aprire e questo qua le porte falle chiudere ok però io non so perché ma tutte le volte devo fermarmi un attimo un mezzo secondo e dire ma quale dei due che devo premere nel frattempo la porta si è già chiusa nel frattempo la porta si è già chiusa se dovrà chiudere si chiude se la voglio tenere aperta ormai si chiude allora quando succede così io metto un piede in mezzo so che funziona sempre ok il piede in mezzo funziona non mi sono mai fatto male perché ci sono i sensori eccetera allora quello funziona meglio del bottone è una fordance molto più concreta la fermo ok quindi c'è una serie di elementi che permettono all'utente di sfruttare meglio le funzionalità del sistema un sistema più ricco più bello che possa controllare l'apertura e la chiusura delle porte quindi la complessità funzionale è aumentata bene la complessità strutturale purtroppo è aumentata anch'essa ma è aumentata in modo da far aumentare anche la complessità d'uso e questo non ci piace tanto abbiamo degli utenti che poi usano male il sistema per carità se è l'ascensore che prendi tutti i giorni sei volte al giorno impari a memoria dov'è il bottone ma è proprio il contrario di quello che vogliamo fare imparare a memoria dover sapere che se premo quello fa questo lo devo sapere è un carico cognitivo io altro che don't make me think fammi pensare e imparare a memoria e ricordare invece devo poter entrare e usarlo questo aspetto che c'è sempre stato con l'avvento del web dei siti internet è esploso come importanza perché con la offerta che c'è di siti internet se tu vai su un sito e dopo ma non dico tre secondi dopo mezzo secondo non hai capito come funziona ti rompe le scatole e te ne vai e chi ha creato questo sito può aver fatto una cosa funzionalmente bellissima ma non avrà utenti perché chi si mette a investire del suo tempo per cercare di capire come funziona non ha capito la prima volta ci ha provato non ci è riuscito quando magari c'è un altro che fa le stesse cose o magari ne fa un po' meno ma è più facile e immediato da usare quindi l'ascensore non è che poi se metti il bottone sbagliato lo cambi con quello che ti ha costato ma un servizio online piuttosto che un altro ci metti pochissimo a cambiarlo e quindi la competizione sulla prima impressione sull'utilizzo facile eccetera la disciplina di usabilità è esplosa con l'esplosione del web poi domani mi devo cercare domani vi faccio vedere una foto che ho preso io di un ascensore e poi me la spiegate quindi progettazione centrata sull'utente vogliamo fare questo è un possibile flusso non mi soffermo molto perché è un tema che verrà anche poi affrontato nel seminario della settimana prossima ma è un flusso di progetto in cui in ogni passaggio non stiamo a analizzare singole scatole ma in ogni passaggio deve essere coinvolto l'utente questa è una fortissima differenza in molti sistemi informativi gli utenti cioè ma gli utenti finali proprio quelli che lo devono usare ogni giorno spesso non vengono minimamente consultati qualcuno decide che una certa funzionalità ci deve essere qualcun altro la costruisce qualcun altro costruisce un'interfaccia poi un certo giorno si dicono gli utenti guarda quel sistema di ieri non usarlo più usa uno diverso e questo scatena di solito la rivoluzione perché qualcun altro per loro ha deciso qualcun altro per loro quando va bene ha immaginato quale fosse il loro modello mentale ma cosa ti costa fin dall'inizio prendere tre utenti campione e fargli un'intervista fargli fare un test fargli vedere due o tre possibili ipotesi di interfaccia e vedere non quale preferiscono perché loro ti danno sempre per fisico quella che ho già ma quale capiscono meglio quale è più immediata per loro cioè nelle varie fasi di pianificazione progettazione realizzazione test ne passano di mesi da quando decidi faccia una cosa a quando è finita non hai mai avuto l'idea o il tempo di chiedere agli utenti finali di coinvolgerli nel processo ecco il user center design fa questo mette l'utente finale o qualcuno che lo rappresenti perché poi magari l'utente finale non lo conosco ma prendo un campione di persone che abbiano le stesse che siano assimilabili come caratteristiche lo coinvolge nella progettazione è chiaro che non lo coinvolge nella programmazione in java fa lo stesso ma nella scelta delle funzioni come metterle come strutturarle come chiamarle come dare il nome alle cose in modo che sia un linguaggio che l'utente capisca capisca mi è capitato due mesi fa mi hanno chiamato a dare una mano per valutare un sistema di per gestire delle prestazioni sociali da un sistema che doveva essere usato dagli assistenti sociali per gestire le loro cose vabbè e volevano usare un sistema prodotto da un'azienda che ha fatto un sistema che dal punto di vista funzionale era anche fatto bene però l'utente lo chiamava cliente allora voi andate da un assistente sociale a dirgli che i suoi assistiti sono dei clienti questo come minimo vi sputa in faccia allora è una cosa banale alla fine è la stessa cosa è l'utente il beneficiario dei servizi però se lo chiami in un modo piuttosto che in un altro vuol dire che tu entri o non entri e hai capito o non hai capito qual è il mondo in cui quel sistema informativo deve lavorare per un nome per una parola vuoi dire ma sì una parola cosa conta ecco se non conta niente metti la giusta se tanto non ti non è solo una parola perché magari è un sistema che andava bene per che ne so per il marketing hanno cercato di rivenderlo su un campo diverso senza però fare lo sforzo di comprendere il modo di pensare degli utenti a cui è rivolto il sistema e come faccio a capire il modo di pensare degli utenti è con delle tecniche ma ce ne sono tante vedo qui un elenco di alcune delle più importanti questionari questionario costa poco e ce l'ha anche da fare online una serie di domande da cui cerco di capire dagli utenti alcune informazioni che mi servono per fare le mie scelte di progetto non me lo faccio progettare agli utenti il sistema ovviamente il progetto è mio ma nelle scelte di progetto faccio in un modo o faccio in un altro anziché decidere io sulla base di come mi sono svegliato questa mattina o sulla base delle mie preferenze personali o della comodità di sviluppo cerco di decidere in modo oggettivo acquisendo informazioni dagli utenti interviste prendo 3, 4, 5 persone e gli parlo faccio delle domande cerco di capire come pensano di estrarre il loro modello mentale per i processi principali se sono un prodotto nuovo si usa molto la tecnica del focus group quindi un insieme di persone interviste individuali un insieme di persone che intervista individualmente invece un focus group è un insieme di persone che partecipa a una regione di gruppo moderata da un moderatore che stimola la discussione prende note di solito queste cose sono tutte registrate poi vengono sbobinate analizzate per capire come reagiscono dei gruppi di persone di solito i focus group si usano per le nuove idee o un'idea di un nuovo prodotto in quanto potrei farlo provare a venderlo e magari fallire oppure prima posso cercare di capire un gruppo di persone come reagirebbe alla notizia che esiste questo nuovo prodotto e si può fare su tutto su tutti i servizi osservazioni cioè soprattutto vanno bene per l'evoluzione dei sistemi se è un sistema che già esiste andiamo a osservare gli utenti come lo usano mettiamoci dietro l'utente mentre lo usa tutti i giorni magari scopriamo che noi abbiamo produttato il sistema per cui basta cliccare un bottone mentre in realtà l'utente fa un passo di avete mai provato a lavorare sicuramente con qualche vostro compagno al computer anche solo scrivere un documento in Word è una cosa che io avrei fatto con la tastiera lui ha fatto col mouse una cosa che aveva preso dal menu lui ha preso l'icona ognuno trova modi diversi di usare il sistema il che è già un bene perché vuol dire che il sistema è progettato in modo da permettermi di fare la stessa cosa in modi diversi ma può darsi che il modo o i percorsi utilizzati dagli utenti siano inefficaci inefficienti o sbaglino frequentemente magari ci sono due bottoni vicini vedo che tante volte l'uno clicca su quello sbagliato e allora magari il tema è un pochino più distante quindi acquisire anche informazioni sulla base dell'uso dei sistemi esistenti o sistemi analoghi a quelli che voglio costruire a volte anche l'utente può dare dei suggerimenti è difficile l'analisi delle concorrenti che cosa fanno gli altri questo è terribile cioè persone che dicono facciamo un nuovo prodotto facciamo un nuovo sviluppo facciamo una cosa e la prima domanda che non si fanno è andiamo a vedere in giro che cosa c'è cosa fanno gli altri nel dettaglio si dà per scontato che io ho avuto un'idea e quindi di sicuro riuscirò a fare una cosa meglio degli altri che non so neanche cosa facciano non ho speso tempo per studiare cosa fanno gli altri per poterlo magari magari è vero che sono capace a farlo meglio ma se non so cosa facciano non so cosa sia già stato provato quali sono stati gli errori degli altri quindi di informazioni per poter capire come offrire una buona interazione per l'utente ci sono ci sono appunto questi sono i metodi principali sono delle tecniche poi non dissimili dalle tecniche che imparate voi nei vostri corsi gestionali si impara un metodo di lavoro che arriva a un certo risultato risultato sono indicazioni che guidano la progettazione del sistema e ovviamente nelle vari stati di avanzamento del progetto si useranno tecniche diverse e il progetto man mano che va avanti devo riuscire anche a validare l'avanzamento del progetto sempre con gli utenti quindi userò dei strumenti diversi mentre noi parlavamo un mese fa del documento dei requisiti dicendo che deve essere letto da molte persone e comprensibile da molte persone tra questi però non c'erano gli utenti finali perché molte volte il documento di analisi funzionale non è comprensibile dalla media degli utenti finali per molti tipi di applicazioni e quindi diventa difficile avere dall'utente un feedback sullo stato di avanzamento di un progetto se questo è solo descritto in documenti per lui astrusi o in linee di codice o in funzionalità incomplete è molto brutto dire ad un utente prova questo sistema a vedere se funziona magari è incompleto vedere come ti piace dammi un feedback e lui sicuramente per la prima volta il primo click che farà lo farà su una funzione che non è ancora implementata sicuro e quella sarà la sua impressione negativa dirà non funziona lo dirà poi anche quando sarà finito perché ormai gli hai dato l'imprenti che è quello lì se clicca non fa la cosa giusta perché magari non ha capito che è in fase di sviluppo eccetera quindi servono degli strumenti che permettono di valutare la bontà delle scelte di progetto qui parliamo ovviamente di quelle che riguardano l'interfaccia in corso d'opera quando il sistema non è ancora completo e ci sono ci sono ci sono vari modi di rendere che vanno da uno scritto su carta allora la navidiata è fatta così con questi bottoni allora se è fatto su carta nessuno si può aspettare che funzioni quando lo ci clicco sopra quindi non metto non pongo al mio utente delle aspettative diverse da quelle che il sistema può offrire lo metto in un contesto in cui si concentri sulla valutazione di ciò che vede e non sulle aspettative di ciò che potrà essere ciò che dovrà fare quindi sono tecniche di questo genere che servono per estrarre informazioni a questo punto quando cominciamo a pensare all'effettivo layout all'effettiva grafica del sistema purtroppo ci dobbiamo per la prima volta dividere o dobbiamo dividere l'analisi in funzione del tipo di piattaforma del tipo di interfaccia su cui lo vogliamo erogare che sia un'applicazione web che è come dicevamo la gran parte dei sistemi informativi attuali che sia un'applicazione desktop quindi un programma installato che sia un'applicazione mobile smartphone o tablet perché le convenzioni d'uso sono diverse il modo in cui io interagisco con un sito web è diverso dal modo in cui interagisco con un programma installato sul pc che è ancora diverso dal modo in cui interagisco con un'applicazione a parità di casi d'uso anche posso avere la stessa insieme di casi d'uso pensate a quei siti che hanno anche la versione mobile dell'applicazione penso a facebook versione mobile e la versione web le funzionalità sono pressoché le stesse ma i modi d'uso sono diversi le azioni che faccio dove devo andare a toccare poi in realtà non è anche vero che le funzioni siano le stesse perché alcune non hanno senso sarebbero troppo macchinose complesse per cui non vengono offerte su una piattaforma allora da qui in avanti praticamente ci si divide lo use case può essere lo stesso nel senso che la sequenza di interazioni di informazioni scambiate è la stessa ma la forma con cui queste informazioni vengono scambiate dipende dal tipo di tecnologia che utilizza questo vale sia per la singola videata per il singolo elemento di interazione sia per il suo complesso perché se l'utente non interagisce con una pagina interagisce con un'applicazione o con un sito o con una funzionalità che sarà fatta di molte pagine videate schermate chiamatele come volete allora l'utente non solo si deve fare un modello di come funziona ogni singola pagina modello mentale ma deve anche farsi un modello mentale o devo aiutarlo a farsi un modello mentale di come sono collegate tra di loro i contenuti le pagine di come andare dal punto A al punto B di come raggiungere quella funzionalità mannaggia l'avevo vista ma chissà dove l'avevo trovata quante volte l'avete detta questa frase so che c'è ma non riesco più a trovarla quindi così come all'interno di una pagina devo essere certo della funzione di ogni singolo elemento anche all'interno di un'applicazione devo essere certo di dove si trovano e come sono organizzate le informazioni quali sono i percorsi più brevi per raggiungere l'obiettivo quindi la progettazione esula dall'interazione immediata ma va anche a diciamo così coprire quella che a volte si chiama l'architettura dell'informazione cioè come sono organizzate le pagine in menu le informazioni tra di loro e come sono collegate tra di loro quindi per aiutarci in questo cammino una delle tecniche oltre a quelle diciamo così più verbali è quella di fare uso di prototipi un prototipo è una versione preliminare non necessariamente funzionante o non del tutto o magari per niente che sia facile da modificare rivedere in modo da poterne valutare versioni diverse e che però possa essere presentata agli utenti per investigare come l'utente può interagire a modalità input-output con le funzionalità del sistema quindi noi stiamo costruendo un sistema ma in parallelo a questo sistema costruiamo delle brutte copie parzialmente funzionanti non funzionanti con dei dati finti senza i bottoni senza i colori domani vedremo lo spettro di queste possibilità che ci servono in varie fasi di avanzamento del lavoro per poter andare a testare gli aspetti di cui abbiamo parlato finora quindi la facilità nel riconoscimento degli elementi vedo una pagina so che cosa fa e gli aspetti di soddisfacimento degli obiettivi che sull'utente si pone quindi se dico all'utente caro utente cancella questo record lui ha l'obiettivo cancella e questo le due parole che deve essere in testa cancella è questo come faccio a specificare il questo e a comandare l'azione cancella c'è un'icona strusa con la motosega che vuol dire cancellalo oppure si usa la x e la x vuol dire cancella vuol dire chiudi dipende da come mi sono giocato l'interfaccia il fatto che l'utente abbia dei dubbi si faccia delle domande e quindi ci metta più tempo e abbiamo rischio di errore maggiore oppure vada sicuro se provo con degli utenti vedo che tutti fanno la scelta giusta o la conferma che il progetto che sto facendo sta andando nella direzione giusta se vedo che hanno dei dubbi e compiono degli errori sono ancora in tempo perché ho fatto solo dei prototipi a basso costo sono ancora in tempo per adeguare il progetto vero e proprio in modo che quando sarà finito non avrà problemi le tipologie di prototipi e il loro uso li vediamo da domani grazie